Dottoressa Opera Molla, c'è il rischio che le prossime generazioni siano affette da demenza digitale? È un rischio che in questo momento non è certo, però è estremamente possibile che questo accada. Troppo poco tempo è passato da quando i mezzi touchscreen sono diventati di uso così diffuso e quindi non abbiamo ancora potuto avere il tempo per avere una valutazione scientifica. Quali sono le facilità maggiormente a rischio? Sicuramente i bambini piccoli di oggi, quelli che adesso hanno 2, 3, 4 anni. Il ragionamento analogico è un ragionamento che comunque comporta un minimo di impegno da parte del cervello. L'esempio dell'orologio è emblematico. L'orologio analogico con le lancette ci impone di analizzare la posizione delle lancette per poter conoscere l'ora. L'orologio digitale invece è immediato perché noi leggiamo l'ora sullo schermo, quindi senza alcun impegno mentale. Quali consigli si sente di dare ai genitori? In che modo possono aiutare i propri bambini? I bambini piccoli nella fascia di età fino ai 2-3 anni rappresentano il periodo in cui si sviluppano i collegamenti fra le cellule nervose del cervello. Questi collegamenti si sviluppano in conseguenza di quello che il bambino fa utilizzando i 5 sensi, muovendosi nello spazio e imparando a conoscere la realtà. Quindi in questo modo la possibilità dei collegamenti che si possono formare è infinita, mentre con gli strumenti digitali, come dicevo prima, il percorso è sempre più o meno lo stesso. Quindi il mio consiglio è di fare in modo che almeno in questa fascia d'età meno tempo i bambini trascorrono con uno strumento digitale in mano, meglio è. In che modo invece possono utilizzare senza problemi lo strumento digitale? Intanto non vanno mai lasciati da soli, ci deve essere una sorveglianza e una condivisione con i genitori e bisogna fare in modo che il tempo trascorso con uno strumento digitale sia limitato. Un altro aspetto importante è che i genitori stimolino nel bambino interessi collaterali, come può essere leggere, andare a fare una passeggiata, interessarsi di altro.